buona prima ragazzi sono tecnici sempre sono connessione ed è sempre su tool manager anche quest'oggi andremo ad analizzare una tattica che ha funzionato molto bene all'interno di fm23 la tattica in questione è il 4231 business fact testato con il buyer monaco come sempre la prima cosa che andiamo ad analizzare nei tatti test sono le statistiche dei calciatori che ci dicono che stadio manè è il capo cannoniere della squadra con 24 reti fatte per lui 39 presenze in totale 24 gol fatti e 2 assist il calciatore con il voto medio alto è marcel sabitzer con 7,40 per lui 17 gol e 10 assist jamal musiala è il calciatore con il maggior numero di assist in stagione ovvero 14 dalle blind è il calciatore con la migliore percentuale di passaggi completati ovvero il 94 per cento damas muller è stato eletto più volte a un partita con 7 premi vinti lucas hernandez è stato ammunito più di ogni altro calciatore con 16 ammunizioni mentre nabri ed hernandez sono stati espulsi una volta testa ci sono dei calciatori che non sono comparsi nelle statistiche come ad esempio joshua kimic per lui 50 presenze totali 12 assist e 5 gol fatti non è comparso nemmeno l'eroe di cui tutti abbiamo bisogno ovvero sane che ha fatto 12 gol e 10 assist in 38 presenze totali le statistiche di thomas muller recitano 20 gol e 7 assist in 41 presenze totali abbiamo matistelle che ha fatto molto bene per essere la sua prima stagione in un grande club e ha fatto 7 gol e 11 assist poi abbiamo sergi nabri che ha fatto 13 gol e 5 assist in 42 presenze totali infine abbiamo chupo motting che in 32 presenze totali ha fatto 21 gol e 1 assist per quanto riguarda le competizioni siamo andati molto bene perché oltre aver vinto la bundesliga vinciamo la champions league in finale contro il paris san germain vinciamo la dfl super cup mentre perdiamo in finale da dfp la bundesliga la vinciamo con 88 punti facendo 28 vittorie 4 pareggi e 2 sconfitte 91 reti fatte e 24 subite siamo la squadra con la miglior differenza reti pari a 67 siamo inoltre la squadra con la miglior percentuale di possesso palla in bundesliga siamo quella che ha fatto più punti per partita siamo la squadra più in forma in trasferta quella con più partite di fila dove abbiamo segnato con il maggior numero di partite senza aver perso con il maggior numero di gol fatti a partita con il miglior numero di expected goals a favore con il miglior numero di expected goals non da rigore per expected goals non da rigore in 90 minuti per rigori battuti per cross riusciti in percentuale per cross riusciti per reti da punizione in diretta per occasioni create per tiri a favore per tiri in porta per tiri a partita per falli subiti per debbing effettuati per debbing a partita per scate ad alta intensità e per passaggi in altre quarti offensiva fatti a livello difensivo siamo la squadra con il minore numero di tiri subiti e il minore numero di tiri subiti in porta minore numero di passaggi tentati contro di passaggi completati contro di passaggi dell'avversario operazione difensiva e per passaggi in altre quarti offensiva subiti il modulo è un 4 2 3 1 come anticipato prima leggermente storto andando con ordine però in porta abbiamo un portiere con i compiti difensivi senza istruzioni aggiuntive i laterali bassi sono due fluidificanti con i compiti di supporto senza istruzioni aggiuntive in difesa abbiamo doppio difensore centrale con i compiti difensivi senza istruzioni aggiuntive a centrocamp abbiamo un regista retratto con i compiti di supporto senza istruzioni aggiuntive e un centrocampista di quantità senza istruzioni aggiuntive i laterali alti sono due ali invertite con i compiti di attacco senza istruzioni aggiuntive il trequartista è un centrocampista offensivo con i compiti di supporto senza istruzioni aggiuntive il perno offensivo è un centravanti senza istruzioni aggiuntive in questo modulo abbiamo sia il lato tattico di istruzioni date ai calciatori assente sostanzialmente perché non se ne danno e sia anche il lato tattico per quanto riguarda la disposizione in possesso in transizione e il non possesso anche quella abbastanza scarna quindi è molto semplice per i calciatori capire questo modulo come mentalità abbiamo offensiva come ampiezza di attacco abbiamo abbastanza larga lo stile dei passaggi è molto più corti con un ritmo di gioco altissimo le altre quarti si fanno crossbassi portando il padrone in area di rigore e si affronta la difesa palla al piede la fase di transizione è caratterizzata da fare pressing a tutto campo e contropiede il portiere la smista ai terzini calciando la corta in fase di non possesso abbiamo una linea difensiva standard con una linea di pressing alta facendo pressing estremo impedendo i passaggi corri del portiere si chiede alla linea difensiva di stare più bassi e il pressing lo si indirizza sui lati a livello di pregi e difetti alla tattica possiamo vedere che le situazioni positive sono le zone da cui sono scaturite le reti segnate area di rigore centro i ritori allontano delle avversari palloni recuperati attacchi avversari in altre quarti sull'ala di sinistra e attacchi in altre quarti offensiva per vie centrali di contro abbiamo le zone in cui sono scaturite le reti subite area di rigore centro campo percentuali di passaggi decisivi degli avversari attacchi in altre quarti offensiva nella parte di sinistra attacchi avversari in altre quarti centrali e scarso influenza light map la seguente vediamo che il portiere è letteralmente attaccato alla propria porta la difesa ha i due centrali che sono perfettamente in linea si malfilificanti di destra mentre quelli di sinistra leggermente più in avanti un po anche per caratteristiche perché alfonso davis tende ad offendere maggiormente rispetto a masrawi il registro arretrato rimane leggermente più basso rispetto al ccq i tre davanti sono perfettamente in linea con l'ala invertita di sinistra che rimane un filo più stretta rispetto all'ala invertita di destra e il centro avanti non si stacca troppo per rimanere molto corti tra i vari reparti cercano di lasciare meno spazi possibile agli avversari in fase di non possesso ci scriviamo con un 4 3 3 con la difesa che sta in parità numerica contro gli avversari di forma al centrocampo a tre è il centrocampista offensivo che si stacca dagli altri tre avanti per dare una mano in questo caso come una sorta di mezzala e il ccq scivola a fare quello al centro dei vari tre con il registro arretrato che scivola a sua volta a sinistra per fare una sorta di mezzala di sinistra che poi va in fase difensiva l'attacco vediamo che è molto aggressivo con l'attaccante che va a pressare il portiere e i due esterni sono praticamente in fuorigioco se avessimo palla a noi perché sono ben oltre i difensori quindi costringiamo per forza di cose il portiere ad andare lungo in questo caso gli esterni devono rientrare velocemente perché andando lungo rischiamo di soffrire un'inferiorità numerica centrocampo in fase di possesso invece torniamo a creare il 4 2 3 1 che si vede poi nel modulo di per sé perché vediamo che registro arretrato rimane molto più basso rispetto al ccq il reparto difensivo è molto largo tra di loro vediamo distanza abissale tra i due difensori centrali e anche tra terzino e difensore centrale in questo caso quello che vuole prendere palla è il registro arretrato altrimenti del ict è costretto ad andare sulla fascia con sané che in questo caso è già stretto perché ha già tagliato al centro e attende un contromovimento da parte del ccq per creare quantomeno un passaggio in questa zona del campo che permetta poi di accorciare qua a ricevere palla e il terzino che si è già staccato è già in avanti con sané che li taglia qua dentro per portarsi via l'uomo per quanto riguarda il centro dati possiamo vedere che gol fatti a partita abbiamo 2.68 expected goals a partita 2.63 goal subiti a partita 0.71 expected goals subiti a partita 0.91 tiri a partita 20.21 tiri in porta 40.17% passaggi completati 87.67% e contrasti vinti 74.55% siamo perfettamente in linea con la media della bundes in questi ultimi 3 dati mentre nei primi citati facciamo nettamente la differenza nel calendario possiamo vedere che a luglio vinciamo tutte le partite disputate così come ad agosto e così come a settembre ad ottobre abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio in bundes e una sconfitta in champions a novembre abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio in bundes a gennaio si riprende con tutte vittorie tranne un pareggio in bundes a febbraio abbiamo 3 vittorie e 2 sconfitte a marzo abbiamo 3 vittorie e una sconfitta ad aprile abbiamo tutte vittorie tranne due pareggi a maggio abbiamo tutte vittorie tranne una sconfitta in champions e a giugno abbiamo una vittoria in finale di champions e una sconfitta in finale di FB Pokal Il cammino in DFB Pokal parte al primo turno contro l'NF e vinciamo per 3-0, al secondo turno troviamo l'Arminia Bielefeld e battiamo per 5-1, al terzo turno superiamo per 3-2 il Karlsruhe, ai quarti di finale battiamo per 6-1 l'Herta di Berlino, in semifinale sconfiggiamo per 5-2 il Cologna, mentre in finale, come vi ho visto prima, perdiamo contro il Friburgo. La nostra Champions invece parte nel girone H, composto da Tottenham, Stella Rossa e Red Bull di Salzburgo, un girone molto semplice, passiamo per secondi per una differenza rate inferiore rispetto al Tottenham, perché facciamo lo stesso quantitativo di vittorie sconfitte, ma facciamo 5 gol in meno del Tottenham e subiamo 4 gol in meno del Tottenham. Agli ottavi di finale troviamo il Barcellona e passiamo per un 4-3 complessivo, nonché se fossimo passati come testa di serie sarebbe andata meglio la Real, ai quarti di finale troviamo l'Inter e passiamo per un 3-1 complessivo, in semifinale troviamo proprio il Real Madrid e lo battiamo per un 4-2 complessivo, in finale sconfiggiamo il PSG per un 2-1 totale. Per vedere un po' di gol fatti andrei ad analizzare la partita contro l'ERTA di Berlino finita per 6-1 nel FB Pokal. Passiamo subito in vantaggio 1 al secondo minuto con Kimmich che si sposta molto bene la palla, attacca la via centrale e va a trovare una gran botta dalla distanza. Secondo gol arriva da Pallena attiva con Mané che paradossalmente stacca più in alto di tutti, Müller al trentesimo trasforma dal dischetto il gol del 3-0, poi Lucas Hernandez innesca Sané che va a fare la sponda Sadio Mané. Il quinto gol arriva con Lucas Hernandez che cambia tutta, Sané va per vie centrali, Mané va a superare Schwelov. L'ERTA di Berlino trova l'unico gol suo della partita all'ottantasettesimo con Richter che la mette in mezzo a Niederlechner che trova il gol sul primo palo. All'ottantanovesimo troviamo il sesto gol nostro con Masrawi che la mette in mezzo, Mané ancora una volta di testa va a segnare. Per vedere un po' di gol subiti invece andiamo ad analizzare il 4-2 che ci ha rifiutato il Wolfsburg in campionato. Passano in vantaggio i padroni di casa con Kaminski che galoppa sulla fascia di sinistra, entra senza che viene incontrastato da nessuno e trova il gol sul palo più lontano. Il secondo gol arriva con Svanberg che recupera palla a centrocampo, lancia in profanità in mezzo e supera Manuel Neuer. Il terzo gol arriva sempre nel primo tempo con Kaminski che viene lanciato sull'out di sinistra, cross in mezzo, Neuer sballa l'uscita in mezzo e trova il gol. Proviamo noi a trovare una reazione da palla in attiva con De Ligt su sponna di Upamekanu. Il secondo gol nostro arriva con Kimmich che manda in profondità Mané e supera così il portiere avversario. Nei minuti finali all'ottantasettesimo il Wolfsburg si mette in saccoccia la partita con Mecha che si gira e trova un gol. Difficilissimo da fare. Con ciò questo era il 4-2-3-1 Bista Spacchio. Spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, commentate e condividete. Noi ci vediamo in un video, non ci vediamo se lei è bella rega. Grazie a tutti.